tesoro ma dove sei stato tutto questo tempo sono andata a comprare una cosa che ti piace tanto a me e cosa hai comprato un perizoma per me sì sì e quando l'hai pagato duemila euro duemila euro però mi fa un culo bellissimo a te te lo fa bellissimo e a me me lo fa tanto